... Avete sentito? Eh? Figli di puttana! Neanche austriaci siete! Slavi! Ungheresi! Ma malucchi! Sempre figli di puttana! Avete sentito la musica italiana? Rossini! Non come quel rompicoglioni di Wagner! Eh? Signor colonnello! La linea è mia! È mia! Avete capito? Sparite prima di finire tutti i morti ammazzati! Signor colonnello, mi scusi... Che vuoi? Sono arrivati rincalzo. Sarebbero questi. Al comando hanno il senso dell'umorismo. Ma chi mi hanno mandato? Siamo tutti volontari, signor colonnello. E non vediamo l'ora di combattere. Lei ci metta la prova e vedrà che sarà contento. Chi sei tu? Filippo Dommaso Marinetti, signor colonnello. Marinetti? Sì, signor colonnello. Il poeta futurista. Sì, signor colonnello. Riposo! Conosco quello che hai scritto. Futurista. Ma non chiedo futurista, sai? E va bene, sistematevi nelle baracche. Terente, accompagnami al rifugio. Ricominciano questi bastardi. Grazie.